Cosa sta accadendo negli States? Le situazioni iniziano ad essere quelle in cui si trovava il nord Italia qualche settimana fa. Per quanto riguarda il resto del paese dove vivo io per esempio per ora la situazione è più tranquilla. Vivo in una piccola cittadina del Montana ma anche qui vi sono stati alcuni casi e vi sono stati un paio di morti nello stato del Montana. Ormai tutto il paese è stato colpito ma per ora la situazione è veramente drammatica solo in alcune città come Seattle e New York. Lei è l'autore di uno dei libri più discussi al mondo in questi giorni in cui racconta il pericolo della pandemia di fronte alla quale la maggior parte del genere umano non sa come comportarsi. Ha anche detto che questo virus è più pericoloso dell'Ebola e della SARS. Cosa dobbiamo aspettarci? Si prevede che questo virus possa diffondersi ovunque infettando molte persone provocando la morte di una proporzione piccola di loro il che è pur sempre straziante. Una volta che saranno state infettate milioni di persone questa piccola proporzione significherà centinaia di migliaia o addirittura milioni di persone solo negli Stati Uniti. Non conosco quali siano le proiezioni per l'Italia a questo punto. Qualche giorno fa ho parlato con uno scienziato, l'uomo che è stato a capo dell'Equipe che ha scoperto l'Ebola in Africa nel 1976. È un uomo coraggiosissimo che ha visto molti virus paurosi e mi ha detto di non aver mai visto un virus in grado di diffondersi così facilmente come questo. Ormai ha superato l'ottantina, si è confinato in casa con la moglie e se lui ha paura di questo virus significa che fa veramente paura. Sin dalla comparsa della pandemia abbiamo assistito a una diffusione incredibile di fake news sul virus, in Italia in particolar modo. Qual è la cosa più importante da tenere a mente quando si fa divulgazione scientifica? Anche negli Stati Uniti girano tante fake news, fake news e consigli sconsiderati su internet, assurdi presunti trattamenti come respirare l'area calda di un asciugacapelli posto davanti al viso per uccidere il virus. Sono affermazioni false che possono provocare danni. Si parla di te caldo. Alcuni bevono cose dannose, fanno i gargarismi con il cloro. Sono molte le affermazioni errate su cosa fare. C'è chi sostiene che mantenere le distanze tra le persone non serve, che gli assembramenti vanno bene se si è giovani. No, non è vero, in quanto vengono colpiti anche i giovani, non solo gli anziani. Poi girano tante fake news sulle origini del virus. Sarebbe stato creato in un laboratorio di armi biologiche in Italia, no, non Italia, spero che non stiano dicendo questo, ma in un laboratorio di armi biologiche in Cina, Wuhan, oppure che sarebbe stato creato dalla CIA, o che è un complotto cinese o americano, non è un complotto, ha origini in natura. Vi sono ottime evidenze scientifiche. Ho qui un articolo pubblicato nella rivista Nature Medicine circa una settimana fa che rintraccia l'origine del virus utilizzando la genomica comparata, dimostrando in modo molto autorevole che questo virus ha origini in un pipistrello in Cina, in che in qualche modo, non si sa come, è passato dal pipistrello all'uomo. Lei ha usato l'immagine dello spillover. Può dirci cos'è? E' importante definire il concetto di spillover e so che anche nell'edizione italiana del mio libro è stato utilizzato questo termine, che è diventato noto a tutti ormai. Si parla di spillover quando un agente patogeno passa da un ospite non umano nel primo ospite umano. Quindi, in questo caso, si tratta di un virus che normalmente si trova nel pipistrello e lo spillover avviene appunto quando questo virus passa dal pipistrello a un primo essere umano. Poi, se avviene la trasmissione da un essere umano a un altro, si parla di focolaio, quindi di zoonosi. Questi potrebbero sembrare termini tecnici, ma sono di attualità termini che tutti dovranno conoscere per capire cosa stia accadendo. Sono in molti a dire che stiamo sperimentando la fine del mondo globalizzato. Cosa ne pensa lei? Dobbiamo imparare a coesistere con il virus? Sono due aspetti da considerare. Sì, ho paura che dovremmo imparare a convivere con questo virus, in quanto non penso che scomparirà mai, ormai diventato un virus umano, oltre ad essere un virus presente nei pipistrelli. Continuerà a essere presente nei pipistrelli che dobbiamo lasciare stare, non dobbiamo demonizzarli o punirli. Essendo ormai diventato un virus umano, probabilmente continuerà a circolare nella popolazione umana, secondo gli esperti che ho avuto modo di sentire. Probabilmente continuerà a circolare nell'uomo anche dopo che avremo superato questa tremenda crisi. Diventerà una malattia endemica dell'uomo il Covid-19, piuttosto che una malattia acuta che provoca una crisi come l'attuale. Alcune persone poi potranno, si spera, essere protette da vaccini, alcune però si rifiuteranno di farsi vaccinare, così come fanno nel caso del morbillo. Quindi come nel caso del morbillo, che può essere una malattia estremamente pericolosa in una popolazione che non vi è stata mai esposta, è probabile che questo virus, a sentire gli esperti, continui a circolare, emergendo in alcuni luoghi, quest'anno o quello successivo. Quindi non scomprerà mai. Ma si spera che diventino disponibili dei vaccini e delle terapie antivirali per contrastarlo. Anche negli Stati ci sono così tanti no-vax? Sì, noi li chiamiamo anti-vaxxer. Ve ne sono molti di no-vax negli Stati Uniti. Alcuni aducono motivi religiosi per spiegare il rifiuto di vaccinarsi, per altri è una questione politica. Si tratta di una mancanza di informazione e di incapacità di vedere le cose nelle giuste proporzioni. Magari hanno sentito parlare di un paio di casi, di persone che hanno sofferto dopo essere state vaccinate. Può accadere in una piccolissima percentuale di casi che vi siano reazioni negative a seguito di una vaccinazione. Tuttavia non vaccinarsi può provocare malattie in molte più persone. Quindi si tratta di una sorta di ceppo ostinato. Persone negli Stati Uniti che respingono l'idea dell'evoluzione e della scienza in generale, che si rifiutano di vaccinarsi. Questo è molto dannoso non solo per loro e per i loro figli, ma anche per i bambini con cui i loro figli vanno a scuola. Perché se una persona non è stata vaccinata, non ha avuto l'opportunità, potrebbe essere infettata dai figli di queste persone se portano un virus a scuola. La sua predizione sull'arrivo di questa grande pandemia viene da un enorme studio sui dati scientifici. Come ha reagito, vedendo che la sua profezia si stava avverando? Per me è stato molto frustrante vedere come si sono realizzate le previsioni contenute nel libro Spillover, pubblicato nel 2012 e nel 2014 in Italia. Contiene queste previsioni, traccia questo scenario, non perché all'epoca fossi in grado di prevedere il futuro, ma perché ho parlato con scienziati esperti che erano in grado di farlo. E ho solo riportato quanto mi hanno detto all'epoca, sei, otto anni fa, gli esperti dicevano di fare attenzione ad un nuovo virus che sarebbe provenuto da un animale, forse un pipistrello, forse da un mercato o in qualche luogo della Cina, e con ogni probabilità si sarebbe trattato di un coronavirus. Le previsioni c'erano, quindi provo frustrazione e tristezza davanti alla nostra mancanza di preparazione. La cosa che più mi sorprende non è questa pandemia, ma piuttosto vedere quanto non siamo preparati. È mancato l'impegno politico, la scienza non è mancata. Dell'ottima scienza ci aveva indicato cosa sarebbe accaduto, ma non abbiamo sviluppato la tecnologia per dei test rapidi ed efficaci e non capisco come mai. Dieci anni fa uno scienziato mi disse di star lavorando su un'idea che avrebbe permesso di fare il test per un nuovo virus sulle singole persone nello stesso tempo necessario per passare i controlli in aeroporto. Dov'è questa tecnologia? Non l'abbiamo. Quindi abbiamo avuto una grande scienza, ma non vi sono stati necessari sviluppi tecnologici e non ci siamo preparati dal punto di vista medico e della salute pubblica. Avere un margine di disponibilità aggiuntiva, se ne parla ora in Italia e adesso anche a New York, questo ha rappresentato un enorme problema. Avevamo bisogno di una disponibilità aggiuntiva di posti elettrospedalieri, di unità di terapia intensiva, di respiratori e adesso stiamo scoprendo, è terribile dirlo, che serviva anche un margine di disponibilità aggiuntiva, di spazio negli obitori, di luoghi dove mettere i corpi delle vittime. Si stanno portando dei camion frigorifero a New York, vengono utilizzate delle piste di patinaggio in Spagna. È solo certo che vi sia qualcosa di analogo in Italia di cui non so ed è straziante. Lei pensa che questa pandemia cambierà gli Stati Uniti? Credo che questa pandemia sicuramente cambierà gli Stati Uniti e spero il meglio. Mi auguro che non venga politicizzata in modo da far pensare alle persone negli Stati Uniti che devono isolarsi di più dal resto del mondo, che devono demonizzare di più la Cina, che devono distanziarsi, costruire più muri. Cambiamenti del genere sarebbero sbagliati. Se siamo fortunati, se siamo saggi, negli Stati Uniti e altrove, ci renderemo conto che il mondo sarà globalizzato, che siamo tutti collegati, che i virus viaggeranno da un luogo all'altro, visto che le merci e le persone viaggiano da un luogo all'altro. Quindi dobbiamo assicurare che anche le conoscenze, le informazioni, gli impegni e la preparazione viaggino da un luogo all'altro. Negli Stati Uniti abbiamo avuto un problema con la carenza di alcuni materiali per i test, come i tamponi nasali, per esempio, dove si producono questi tamponi nasali nel nord Italia. Quindi dobbiamo aiutarci a vicenda. Saremo collegati e dovremo esserlo in modo positivo. E spero che accada questo, che sia questo l'esito. Come nasce il suo interesse per i virus? Il mio interesse nei virus risale a 25 anni fa, quando ho iniziato a leggere del virus dell'Ebola, come tanti altri, argomento tragico, affascinante e pauroso. E poi 20 anni fa la rivista National Geographic mi inviò in una spedizione per correre a piedi in ciò che restava delle grandi foreste del bacino del Congo, con un biologo e esploratore americano, Mike Fay. Camminiamo insieme per intere settimane ed a un certo punto ci troviamo nel territorio dell'Ebola. Sapevamo che il virus dell'Ebola si trovava intorno a noi, da qualche parte nella foresta. Non sapevamo in che animale si trovasse. Iniziai ad interessarmi a questo mistero. Qual era l'ospite serbatoio dell'Ebola? Dove si trovava in un animale? Quando non uccideva gli esseri umani, mi si resi conto che questo argomento riguardava i virus nell'ambito dell'ecologia e della biologia evolutiva. Il mio argomento, la mia specialità. Quindi divenne sempre più interessato nei virus e poi iniziai a fare ricerche per il mio libro Spillover. C'è una connessione tra cambiamento climatico e pandemia? Esiste un collegamento, ma non è diretto. E le persone non dovrebbero affrettarsi a dire ecco, la pandemia di Covid-19 è stata provocata dal cambiamento climatico. Non mi risulta che vi siano prove che sia stata causata direttamente dal cambiamento climatico. È nata dal contatto tra l'essere umano e gli animali allo stato selvatico. Un contatto che ha rotto un equilibrio danneggiando degli ecosistemi. Quindi la pandemia di Covid-19 va vista in parallelo al cambiamento climatico. Condividono le stesse cause di fondo, ma un fenomeno non ha provocato l'altro. Le cause in comune sono l'esistenza di 7,7 miliardi di esseri umani sul pianeta, la nostra fame di consumare, la fame di proteine di origine animale che ci porta ad entrare in contatto con virus che vivono negli animali allo stato selvatico, fame di risorse e di energia che provoca il problema del cambiamento climatico, fame di viaggi che significano spostamenti di persone e di animali in diverse parti del mondo. E con il cambiamento climatico e un aumento delle temperature nelle latitudini a nord, vediamo come le malattie, non questo virus, ma le malattie virali trasportate dalle zanzare e da altri vettori, insetti e artropodi, queste malattie si stanno diffondendo al nord, perché appunto le zanzare sono in grado di farlo. E quindi queste malattie si stanno diffondendo in zone in Europa, negli Stati Uniti, dove non esiste un'esperienza recente di queste malattie, dove le persone sono suscettibili. E quindi questo è un esempio di malattia legata al cambiamento climatico. Ultima domanda. Che tipo di futuro immagina per il genere umano? A questo punto voglio immaginare un futuro migliore. Riesco a immaginare un futuro migliore e uno peggiore, ma sono speranzoso, lo sono di natura, anche ai momenti cupi. Quindi penso che potremmo imparare da questa terribile esperienza e imparare che siamo tutti collegati. Ricordare che la nostra fame di risorse è insostenibile se siamo in 7,7 miliardi sul pianeta. Dobbiamo quindi riformulare, ricalibrare le nostre aspettative di comfort, di lusso, di viaggio. E includo il sottoscritto, visto che viaggio molto e sto ricalibrando. Dobbiamo riflettere sulle scelte cruciali. Cosa mangiamo? Cosa consumiamo in vari modi? Quanti figli abbiamo? Tutte cose che mettono pressione su ciò che rimane della natura del pianeta. Sono fiducioso che diventeremo consapevoli e che inizieremo a ridurre i nostri consumi, la nostra popolazione, la nostra riproduzione, ma non i nostri legami, non la nostra arte, la nostra letteratura e le altre meraviglie. Siamo sempre una specie straordinaria in grado di fare cose che altre specie non possono fare. Quindi sono frustrato per via dell'impatto di noi esseri umani, ma sono affascinato dalle tante cose che facciamo. Vorrei che fossimo di meno, con meno consumi, ma comunque potremmo vivere una vita bella. Mi auguro che saremo più saggi e più umili e anche più altruisti quando questa esperienza sarà finita. È stato veramente un piacere, Mara, e noi pensiamo all'Italia ogni giorno, ogni singolo giorno. Vi auguriamo forza e fortuna e ce la faremo. Grazie mille, grazie mille.